La mia sensualità da mamma Melanie Dakota Johnson, ho ereditato la mia sensualità da mamma Melanie Labbra rosse come il fuoco e occhi color del cielo, Dakota Johnson è a tutti gli effetti una delle star di Hollywood più in boga del momento. . Diventata famosa per il suo ruolo di protagonista nella saga 50 sfumature, l'attrice ha confessato di aver ereditato la sua innata sensualità dalla madre, la celebre diva Melanie Griffith. Dakota Johnson e Melanie Griffith nate sotto il segno della bellezza. . Dakota Johnson ha dovuto interpretare non poco scene di nudo, ma ha sempre dimostrato una grazia e una sensualità innate, merito della mamma Melanie Griffith che, fin da quando la figlia era bambina, le ha insegnato ad amare e rispettare il suo corpo. . . Le due star di Hollywood sono molto simili, lo sguardo ammaliante e le labbra prorompenti le caratterizzano, intrigando i fan che si sono lasciati conquistare dalla loro bellezza. . Secondo la giovanissima Dakota, la consapevolezza del suo corpo e della sua femminilità sono state ereditate dalla madre, che l'ha sempre fatta sentire unica e speciale. . . Nessuna vergogna e nessuno stereotipo, vivere la nudità e il corpo con naturalezza toglie qualsiasi volgarità al gesto femminile. Entrambe bellissime e talentuose, Dakota e Melanie hanno dimostrato al pubblico quanto sia importante sentirsi a proprio agio con il proprio fisico. . 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